Bellissima esperienza questa sera al palacongresso di Agrigento con la presentazione di uno spettacolo particolare che è la giara di Pirandello ma nella particolarità che nel dialetto girgentano che Pirandello amo profondamente. Pirandello debba dire anzi che il dialetto girgentano era il più puro tra i diaretti del meridione e che avrebbe meritato una presenza nazionale come dialetto e come lingua quasi nazionale. L'attaccamento grandissimo di Pirandello, noi proponiamo una performance particolare tra recitazione, canto e danza e abbiamo coinvolto il gruppo Volk di Riccardo Cacicia, città di Agrigento perché è un progetto per una programmazione internazionale. Noi siamo stati con Pirandello in tutta Europa e fino in Cina, Stoccolma, Oso, Atene, Malta, ancora Varsavia e poi siamo tornati a Malta con i nostri artisti del Pirandello Festival. Proporremo ora questa grande presenza del teatro siciliano girgentano in tante dimensioni culturali internazionali. a Malta con i nostri artisti del terzo e arrivare a Malta con i nostri artisti del terzo e di naturale. Alliatela, alliatela, il spettacolo. Nel c'è un giallo che mi vuo, già accanto che mi vuoi camminare. Che ho posto lì, alliatela.